Prima si mandano lettere a Roma chiedendo poteri eccezionali e maggiore autonomia per i sindaci durante la pandemia. Poi, quando il governo paventa la possibilità di fornire ai sindaci maggiore autonomia nella gestione di eventuali situazioni di assembramento nei loro comuni, allora si parla di scarica barile. I sindaci sono veramente lo scarica barile di questo governo. L'autonomia è una delle battaglie del Veneto, ma come si fa a chiederla se al primo accenno di fornitura di maggiore responsabilità c'è qualche sindaco come Elena Pavan che parla di scarica barile? La sciagura sarebbe stata per tutti, per l'economia ma anche per la salute psicologica di molti singoli e famiglie, una chiusura totale, un altro lockdown. Come fai a non fare un altro lockdown? Vai ad operare chirurgicamente delle chiusure localizzate lì dove serve. Ma chi è che ha il polso della situazione per sapere effettivamente dove serve? Chi lavora in loco? Quindi i sindaci. Io penso che i sindaci devono essere in qualche maniera orgogliosi di poter finalmente decidere se chiudere o non chiudere alcune zone. Abbiamo visto che storicamente il sindaco Pavan quando parla di ANCI o di associazioni di sindaci fa sempre confusione, non sapeva neanche dove era stata eletta. Probabilmente dimentica che insieme con altri sindaci aveva firmato una lettera ad aprile dove aveva chiesto maggiore autonomia al Presidente Conte. Giocare a questo gioco di responsabilità e criticare una scelta soltanto perché viene dal governo centrale senza entrare nel merito sicuramente non persegue il bene dei cittadini.